Salve, salve, si si accomodi, mamma mia è un piacere conoscerla veramente, apprezzo moltissimo il suo lavoro, si, allora oggi sarò la sua truccatrice, esatto, e devo ricrearle il trucco per la scena 23 giusto? Ok, facciamo Ok, perfetto, mi hanno già dato qualche consiglio, qualche direttiva per la creazione del suo make up che è un po' particolare per questa scena, esatto, però ovviamente la adatterò anche un po' alle sue preferenze, perfetto, allora, mi dicono che deve girare una scena d'azione giusto? Ok, e quindi dobbiamo dare un effetto un po' bagnato, quasi sudato, ok? Un po' sporco e con qualche magari ferita con il sangue, ok? E' una scena in cui devo usare le pistole, giusto? Beh sì, allora direi che va più che bene come idea, mi dicerei comunque, preferisce anche un trucco un po' correttivo di quelli che non si vedono ma che servono un po' a sistemare la pelle, a dare uno sguardo più intenso, sì, ok, perfetto bene direi che come linea guida ci siamo perfetto, perfetto sono molto contenta di lavorare con lei oggi è pronta per questa scena? sì, è complicata beh, immagino sono anche in mezzo agli effetti speciali eh sì beh, allora direi di iniziare subito con la parte più correttiva ok, allora inizio ad applicarle questa base che è una base luminosa quindi serve già a dare quell'effetto bagnato che un po' richiede il contesto della scena sì, esatto anche un buonissimo profumo quindi sarà una finita sudata una sudata profumata sì, esatto sì, esatto ne prendo un pochino ok ok io lo metto un po' qui sulla fronte e sul naso sulle guance beh può tenere gli occhi aperti come preferisci ok si perfetto si sta anche prendendo un po' una pausa dal 7 in questo momento immagino sia abbastanza stancante ok adesso le applico un po' di correttore molto leggero perché ovviamente che lei sia un po' stanca con gli occhiai ci sta insomma con con il contesto della scena però ovviamente un po' coprirle non fa male uso questo correttore che è molto molto leggero perché è molto piccola è molto piccola perché è molto piccola e anche se è molto picco che è molto piccola ma è molto piccola ok, guardi su le metto va qua lo stendo con questo pennello che è morbidissimo sì, in effetti sembra un po' uno spazzolino ma è un pennello ok, guardi sempre al su ok, perfetto adesso le metto un velo proprio un velo vediamo dove l'ho messo eccolo qui di fondotinta come può vedere è un pochino più scuro proprio leggermente rispetto alla sua pelle perché dobbiamo dare un po' quell'effetto abbronzato come se fosse stata un po' sotto il sole infatti dopo faremo anche qualche scottatura ok ok allora le metto un po' qua sulla guancia di qua un po' sul mento e sulla fronte sul nasino un po' poco poco ok in questo caso glielo stendo con la spugnetta per dare proprio un effetto molto naturale non si deve vedere che indossa il fondotinta ecco ok poff 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 ok per quanto riguarda la cipria io ne metto pochissima giusto qua perché appunto dobbiamo dare un po' l'effetto bagnato io uso questa qua che è trasparente come li faranno i capelli? hai una coda? beh si è adatto uso questo bel pennellone che da pure ne ho? ok 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 perfetto perfetto poi le sistemo giusto un po' le sopracciglie in modo super naturale infatti uso questa matita giusto per sistemare qualche peletto qui prima mettino un pochino e poi le ho pittinato un po' all'insù ok adesso le disegno un pochino giusto qualche peletto qui qui in modo molto naturale ok ok per quanto riguarda gli occhi farò un trucco praticamente invisibile ma in modo tale da rendere lo sguardo più intenso così mi sta volendo ecco la allora sfumo giusto un po' di marrone qui all'attaccatura appunto giusto per rendere lo sguardo un po' più intenso questo qua molto sfumato chiudo pure chiudo pure chiudo pure ok pochissimo e con gli ombrette abbiamo già finito praticamente applico giusto sugli occhi un filo leggerissimo di mascara ma proprio leggerissimo guardi giù un attimo giusto pochissimo ok bene passiamo alla parte un po' più succulenta allora ho portato questa palette per il contouring e la userò per fare un po' l'effetto sporco un po' di macchie di terra ecco allora prendo questo pennellino qui e mettiamo un po' di marrone il più scuro direi questo qua allora direi di mettere un po' qui sulla fronte è questo e poi un po' qua come se avessero macchia di terra qua che scende sul collo ok bene adesso creo qualche rossore creerò qualche scottatura come se fosse stata sotto il sole per molto tempo e qualche scottatura appunto più lieve qualche zona un po più intensa allora uso questo blush un po' qua il buon è il nostro incionato un po' qua 4 1 2 3 ok e adesso uso proprio un rubretto rosso per fare le scottature più intense questo qui questo è un rubretto rosso per fare le scottature più piccoli questo è un rubretto rosso per fare le scottature più piccoli ok adesso facciamo proprio l'ultima cosa ovvero un graffio lo avevo deciso di farlo qua sulla guancia va bene? ok allora riprendo un po' dell'ombretto marrone di prima vediamo eccolo qua per cominciare a tracciare il disegno del graffio ok e adesso uso questo rossetto per fare un po' il rossore del graffio intorno ecco poi dopo metterò anche il sangue finto allora uso un rossettino rosso rosso bordeaux così allora io direi di arrossare anche un po' qua il labbro tenga la bocca chiusa ok ok e adesso passiamo alla parte divertente ho qui il sangue finto che sembra nero ma è è rosso scuro a tutte le bolle è molto molto liquido questo proprio perché voglio far colare il sangue in modo molto realistico allora eccolo qui ne prendo un po' col cotonfiocca in modo da farlo colare sulla guancia ok questo è il colore rimane lucido per un po' di tempo dopo un po' tende a seccarsi ma adesso comunque fisso tutto con una specie di lacca che serve sempre per andare l'effetto un po' bagnato si mi è sudato questo spray ok ok allora cerco di nonna faccio anche un po' così in modo da fare qualche gucciolina fare qualche gucciolina ok bene bene io direi che ci siamo ti doni un bocca al lupo per questa scena ok ci vediamo allora ciao 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 Grazie a tutti